Viene qualcuno, dice, ma tu non ti devi lamentare. Come non mi devi lamentare? Dice, ma guarda, guarda un po' indietro a te. Non guardare sempre avanti a te. E io caccia camminare, sembra così. No, io non posso camminare. Dice, ma tu guarda un po' indietro, non guardare sempre avanti. E io ho guardato indietro, eh. Io ogni tanto mi giro, guardo e mi sono avvelito. Perché c'è gente che sta ancora peggio? No, perché non ci sta nessuno, non è da me. Ecco, questo è il guai. Io davanti a me, davanti a me, vedo tutto faccio questo giro, no, così mi guardo. Ma mi giri e non vedo nessuno. Allora, vorrei che sono l'ultimo, guarda. Sono più rovinato di tutti quanti. Ho capito, ho capito, grazie.